Una pagina su Facebook che si intitola Nessun amministratore fasanese al matrimonio indiano Una valanga di email di protesta a decine dei giovani dell'Accademia Navale di Livorno che hanno intasato la posta elettronica e persino una serie di quesiti da parte di un generale sulle spese che il comune avrebbe dovuto sostenere per le nozze indiane Il sindaco di Fasano, Lello di Bari, non immaginava una simile reazione per aver detto che il matrimonio della figlia del magnate indiano Pramod Agarval sarebbe stata un grande spot per la nostra terra Primo, non ho nessuna possibilità di impedire una cosa del genere perché è un evento privato che si svolge in strutture private e non in strutture comunali Secondo, il comune non ci rimetterà assolutamente niente e rispondo così al generale Termentini che mi ha mandato una mail chiedendomi quali sono le spese che il comune dovrà sopportare spese per energia elettrica, spese per uno sbaltimento dei rifiuti non ci sono assolutamente spese a carico del comune di Fasano e sono solidale con il problema Marò, sono sempre stato solidale Fasano ha anche manifestato con striscioni o altro in diverse occasioni sicuramente quando il governo nazionale non riesce a risolvere un problema non è un piccolo sindaco di un paese di provincia che potrebbe riuscire ad influire su questo problema Ma l'indignazione di chi pensa ai Marò, trattenuti in India, di Laga e domani per pianificare la sicurezza intorno alle aree è stato convocato un vertice in questura e sulla sua partecipazione ai festeggiamenti di Bari resta cauto Questa è una voce che mi è arrivata, che dovrebbe arrivarmi in invito per una delle aree feste ad oggi non ho ancora ricevuto niente se non lo dovesse ricevere penserò a che cosa fare